Eccellenze, Signor Presidente, Signor Sinnaco, Autorità, Signore e Signori Cagliandici, sono molto felice di essere qui con voi per celebrare questo anniversario del 150esimo anniversario della formazione di Javini Ham. Continuo in francese. C'è un voisin che io sono con voi, anche per me riferire con voi per l'anniversario in questi miei, in particolare, non solo con la Gran Bretagna e l'Italia, ma anche con la Principità dell'Italia e gli miei, in particolare, in particolare l'educazione, perché gli italiani di Manco e gli italiani, se riunissano per riferire su queste problematiche. Questo luo resta eccezionale per la situazione e le sollezzi particolari che fa l'obieto di più di un secolo. La natura è qui mergineusement preservata in un vero balecone verti sulla Méditerrania. Io voglio esprimare le più chaleureuse felicitazioni per la retrospective che avete organizzate a travers questa bella spedizione, ma per la parte che vi conoscete, tutti e tutte, con talento e la misa in valore di questi prestigiei. Allora, a chacune e a chacune d'entre voi, tutti i voici per il presente, tutti i voici per il futuro di questi jardini unici, che sono veritamente unici, in ogni caso da nostra regione e anche in Europa, e che meritano tutti i nostri esporti per la misa in valore e la presentazione. Grazie.